Allora, questa sera qui a Crotone presenta il suo film Selfie. Buonasera, sì, è un'ospitata che mi fa molto piacere perché per anni sono venuto con la mia famiglia in vacanza nella provincia di Crotone e quindi trovarmi qui in coincidenza con questa rassegna mi fa sentire come se stessi in vacanza, insomma sono un po' regista del film, un po' spettatore diciamo, me lo riguardo forse, non lo so e credo che le tematiche che vengono affrontate nel film poi sono le stesse perché racconto la storia della quotidianità di due ragazzi di un rione popolare di Napoli che si chiama Rione Traiano che vivono la loro quotidianità e rievocano la morte di un loro amico ucciso tre anni prima quando anche egli aveva 16 anni per un errore dei carabinieri che l'hanno inseguito, speronato e gli hanno sparato pensando che fosse un camorrista, un latitante in fuga. Questo ragazzo non aveva avuto mai nessun problema con la giustizia, aveva commesso un'infrazione, era senza casco sul motorino, chissà quante volte io da ragazzo sono andato senza casco e in tre sul motorino e sono infrazioni che non prevedono la pena di morte, per fortuna nessun reato in Italia prevede la pena di morte e figuriamoci le infrazioni e come dice la famiglia questo ragazzo è stato ucciso tre volte, la prima volta materialmente, la seconda volta per come subito la stampa ha raccontato l'episodio trasformando la vittima in carnefice e incolpevole lasciando intendere che fosse un camorrista, anche se su quel motorino ci fosse stato un camorrista, lo arrestino e non gli spari, ma lui non era neanche un camorrista, era un ragazzo di 16 anni e i ragazzi di 16 anni hanno diritto di sbagliare per imparare a vivere, allora siccome non volevo realizzare un film al passato con delle interviste, volevo realizzare un film al presente e siccome in radio c'erano solo le opinioni dei commentatori blasonati, sociologi, scrittori, politici, ma non si sente mai il punto di vista dei diretti interessati, ho pensato di raccontare questo film dal punto di vista dei due ragazzi di 16 anni, dove l'espressione del punto di vista non è soltanto figurativa, ma è materiale, perché il film è raccontato da loro, che si raccontano in modalità, si filmano in modalità video selfie, quindi è il primo film in cui i protagonisti sono anche cameraman, comunque da me diretti, e loro si specchiano nel display del cellulare ed è come se, mettendosi di lato, quindi non come nei social, nei selfie dei social che sono più narcisisti, e mettendosi di lato, oltre a raccontare se stessi, raccontano quello che c'è dietro di loro, cioè il contesto nel quale è maturata questa tragedia. La terza morte di Davide, che mi ero dimenticato di elencare, è quella della sentenza finale che ha prosciolto chi l'ha ucciso per una serie di tecnicismi, e quindi anche in questo caso la famiglia dice che non è stata resa giustizia. Il film nel suo piccolo non può far tornare a vivere Davide, ma può raccontare questa vicenda che, ripeto, ha dei tratti comuni in tutto il sud, dove c'è l'abbandono scolastico prematuro dei ragazzi a 13 anni, i quali lasciando la scuola, se sai, se la lasci in una ricca provincia del nord, probabilmente puoi intraprendere un percorso professionale in una fabbrica, o apriti una bottega, fare ragazzo di bottega, al sud questo non succede, perché poi chi ha le botteghe non se la sente, ci sono tante di quelle complicazioni fiscali, eccetera. Quindi l'unico datore di lavoro realmente interessato è la criminalità, e quindi quando c'è un alto tasso di abbandono scolastico e poi vedi che c'è un alto tasso di criminalità, non è una casualità, è una causalità, e dispiace che chi ci governano in generale, le istituzioni non se ne rendano conto, perché non è che nei quartieri popolari si annida geneticamente la predisposizione alla devianza, evidentemente ci sono delle cause sociali.